a tutti buongiorno ragazzi e io sono qui a casa come hanno detto sto a casa bella dentro esco fuori nel terrazzo un pochino e pazienza dai ragazzi che passerà passerà prima o poi allora io volevo mandare un saluto a tutte le mie famiglie all'ipari a salina alicudi filicudi messina brindisi germania tutti 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 vi voglio bene un bacio a tutti un bacio particolare scusatemi ma va alla mia alice al mio leon che sono la mia vita e che cerco di farmi forza per loro perché li voglio stringere di nuovo la nonna vi ama ragazzi e poi un bacio a tutti gli amici a tutti buona giornata ragazzi